ciao amici youtube ben tornati in questo nuovo video oggi siamo su Votely Waves e siamo a pullare per Chang Lee che abbiamo detto è schippavo ma visto che su Jin Si è andata bene e i prossimi i personaggi sembrano fatti di carta pesta verranno schippati alla grande e quindi si pulla oggi 152 pull 50 e 50 pt basso su entrambi i banner e le pull degli altri alcune bene bene altre male male io non ho mai perso il 50 e 50 quindi magari oggi è il primo giorno preferenze se lo perdo quelli che non ho ma se no va bene un po' tutto 4 stelle principalmente mortefi e baisi meno scioglietà usci possibili se escono ci facciamo una ragione mi manca alto un alto servirebbe nel quest vi auguro buona visione e ci vediamo nei prossimi da tema Votering voglio già a pullare si va a 20 4 stelle allora ho detto baisi e mortefi maggiore di Sao Shi però vediamo è un alto che mi manca gli altri vabbè Sanuala c4 però lì si inizia a chiedere cose che non sono nemmeno considerate in questo banner quindi perfetto perfetto c2 buonissimo io lei ce l'ho già buildata è già al 70 con l'arma al 70 quindi comunque non è una da creare da capo mortefi lo devo buildare da capo quindi lei è ancora meglio forse perfetto 30 4 stelle vediamo un po' vabbè se è abbastanza inizio molto il 4 vediamo ecco vabbè c'è anche lei giustamente va a uscire no non iniziamo occhi bottoni finitela finitela immediatamente finitela ok va bene 40 si inizia a utilizzare le gastrifie si fa i bottoni finitela finitela con sti cazzo di bottoni vediamo si oh mi mancava raga infatti nuovo nuovo mi mancava sono contenta ve l'ho detto era l'unico 4 stelle che mi mancava quindi almeno di 4 stelle il dex è completo perfetto bene multi top multi top e c1 top questa è una signora multi con i signori signora multi con i signori bella bella questa mi è piaciuta bene in alto mancava 50 dai una multina prima 4 sempre io nel banner army ho tra virgolette sfigato entrambi le volte perché mi è uscita entrambi le volte intorno a 60 quindi magari potrebbe farmi un regalo nel banner army e darmi prima lì bene c3 buono buono si si lei sempre bella poi appunto ripeto utile non pulliamo tanto come su genshin nel mio account in questo gioco quindi ho anche bisogno delle costellazioni ok 60 prossima multa è quella del 5 stelle ed è l'unica healer insieme a verina io verina l'ho trovata nel primo banner quindi ce l'ho però fa sempre comodo averne due anche per i team dell'abis ok 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 c'è non è il recap non è il recap però però c'è c1 si totalmente a caso totalmente a caso però da non averlo farlo c1 è un attimo va bene alto va bene va bene allora si va a 70 quindi qui teoricamente la multi del 5 stelle speriamo bene se non va riusciamo a prenderla lo stesso quindi dai però insomma se esce prima sarebbe meglio onestamente dai multi del 5 stelle che poi adesso la tiro ed è viola perché uscirà magari a 71 72 però tiriamo allo stesso appunto appunto l'avevo detto l'avevo detto avevo detto che usciva a 71 vabbè ma non ero mai andata non ero mai andata tipo oltre la 52 in questo pan va bene va bene va bene c4 sono contenta bene perché effettivamente è quella che utilizzo di più di questi quindi ora proprio bisogna s'acquipatema d'anima ogni singola vabbè nel caso vomito 71 ok nel caso vomitiamo 72 ok 73 sentendomi malissimo mi mancava va bene buono buono mi mancava mi va bene mi va bene non ce l'avevo e così posso prendere jangshin di là va bene va bene sono contenta io l'importante era che non fossero lì esatto poi ragazzi posso dire che tipo cos'era l'abis che chiedeva sempre un dps elettro esatto io stavo piangendo perché non ho preso yelin non ho buildato yon vu di merda e mi mancava lui io volevo tipo piangere perché non riuscivo a tirare giù nessuno da quel lato per il dps elettro quindi di questo sono molto contenta allora 10 si riparte come minchia 10 vediamo oh magari riesco a finire i paisi eh magari riesco a finire i paisi così vediamo nell'altro band prendiamo Kung Fu Panda forse ci penserò ci penserò vedo che cosa mi manca probabilmente mi manca più lei di lui quindi probabilmente potrei scegliere di prendere lei e utilizzare il resto delle pulchie mi avanzano per prendere un'arma 5 stelle anche perché vai teoricamente in quel banner lì se tira una multime esce il 5 stelle vabbè c2 così così c'era anche lei c'era anche lei ok io trovo solo personaggi che non sono in retap incredibile 20 cioè tutti quelli non in retap ok dai Fede facciamo uguale facciamo due soft per questa cessa le jamex con la cessa al soft vediamo adesso è del banner vediamo chi è dei 3 quanto è l'ultima c5 ne manca una a sto punto spero mi esca a sto punto spero mi esca me ne manca una sola 30 ancora una eh si ancora una raga dai vai si in questa multi no ragazzi dai non è possibile ma è una persecuzione ma poi back to back perché l'ultima della multiprima era Baisy e ora c'è questo dimmi alto c'è qualcosa che mi devi dire cioè non sto capendo cosa succede dimmi pure la novela c2 che poi in realtà è un dps o comunque aero o wind come lo vogliamo chiamare io c'ho già gian quindi non è che mi serva nemmeno più di tanto è divertente da giocare è molto divertente il gameplay però 40 però c'è qualcosa che a me non non serve diciamo quindi ci sei finita si vai la mia preferita del banner l'ho finita almeno l'ho finita sono contenta ora possono continuare a uscire gli alto ora se vogliamo essere pignoli in queste ultime multe ci si parla dal soft se mi da un paio di mortefi sarai contenta eh sì esatto pd cioè è molto divertente alto per carità però c'è gian e gian ragazzi io amo gian sì ma mi continuo a divertire tantissimo a giocare gian ok 50 ci siamo quasi tanto avevo detto che oggi volevo fare tra virgolette all in perché va bene va bene adesso diventano pull che non è male visto che voglio prendere costellazioni di personaggi che non torneranno esatto adesso sono pull le baisi sono contenta anche perché lei è bellissima è la mia 4 stelle preferita quindi a sto punto pull no se mi dà la c2 di mortefi sarei contenta perché almeno inizio a usarlo con gian meno c2 visto c'è la voce 0 ne abbiamo trovato uno solo però ok ci siamo quasi 60 oh bene la multi prima abbiamo risparmiato la multi sta uscì abbiamo risparmiato la multi questo è 51 52 sempre 52 io ma ho un laboramento al 52 anche oggi inizio è uscita al 52 va bene dai lo accettiamo calzaro nuovo e signorina bellissima vi devo dire che io sono abbastanza contenta bella 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 faccio fotina faccio fotina bellissima e poi con uno che mi mancava tra l'altro il mio preferito di quelli che mi mancavano avete visto avevo messo il retappa nel banner di là come vuoi ok buttina vai seguiamo seguiamo l'istinto ok adesso ci c'è allora 67 68 vediamo se è 69 no ok 70 71 ok 71 no ma no già gattino è pure il primo 5 stelle che ha avuto quindi ce l'hai già si mamma io se il permanente ne ho solo due va ok 25 c'è anche lì però ci scassasti su eccola si 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 allora 16 17 si adesso 17 il mio numero fortunato che bella animazione non l'ho ancora vista sta giocando a hotello ma l'ho come bello boh boh ma io me la sposerei anche adesso parca miseria cioè però 70 dai 70 eccola oh 70 c'è voluto un po' ma dov'è bellissima 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 e ora c'è anche questa da prendere la broad blade a chi la diamo questa? a gian a gian perché non ho preso la sua arma su foccia foccia oh all'ultima all'ultima singola oh almeno ci possiamo portare anche ad oggi ragazzi proprio proprio sull'astrio siamo finiti si è finito il lastrio oh però almeno ce l'abbiamo abbiamo entrambi i nostri amici con i loro armi abbiamo tutto per ora no ma io spero che l'arma esca nelle due multi che hai con i simboli sì speriamo dai 72 forza eccoci non voglio guardare allora 72 però bene l'accetto la volevo gli abbiamo fatto troppi complimenti secondo me a questa bambina sbagliato 42 dai early ah ok ok preghiamo preghiamo questo è 33 34 amateus 35 36 37 38 39 yes bim39 39 portata a casa pt39 eccola a fatica ma ce l'abbiamo blazing brilliance ce l'abbiamo no records perfetto siamo a pt0 perfetto pt10 5 stelle è stato facile è stato facilissimo bastava dirglielo dov'è 1 2 3 4 5 6 7 ecco le pistole per mortefi è stato molto facile 73 ci siamo ci siamo l'ha pure perso l'ha pure perso l'ha pure perso l'ha perso ha perso ma che è successo magari esce a 67 67 oh Gesù mio grazie ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta 61 62 63 64 65 66 67 l'avevo detto magari esce a 67 67 riguardiamola mi ritolgo di mezzo ok yeah eccoci partita multi eccoci va si vola cioè meno male meno male non si va oltre meno male vediamo dove arriva allora 62 62 sì 63 64 mortemi molto bene cagate 65 ok possiamo rendere per il no adesso lo cerchiamo 66 67 non usci a 69 c'è anche lì per favore che Marco se no 68 dai 68 no 69 ok meno male meno male andava bene andava bene 70 oh numero sondo c'era una finca la dopo oh anche perché sono rai la dopo perché non c'era più abbiamo fino la multi quindi oh via 70 bellissima 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 vabbè mi odia che mi devo dire io l'ho detto a nuva porca miseria aiuto amore mamma mamma marietto mamma marietto e meno quello dai mamma mia dai 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 conferenza ok allora meno male meno questa ok 61 62 63 mi cago addosso 64 mamma mia eccola ecco la una cagata proprio cagate cagate ok perfetto grazie grazie signorina grazie signorina focosa grazie grazie se vuole francesco anica se dov'hai divestito 50 e 50 vinto non sarà il tuo piripipiri piti 22 dove oh brave 22 si dimmi esce ora ora no dov'è 23 20 questo muore 24 25 26 27 28 28 è uscita l'arabba 5 stelle 73 mazzi dove stanno dove stanno 74 e porca miseria ok dai yes si vinta si 74 però raga è di nuovo hard 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 raga 70 qui dovrebbe essere 5 stelle oh si 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 che arma ti metto ora france la prendiamo questa che vuoi oh meno male 62 63 64 65 66 67 titi 67 lo lascio per quando hai un'altra multi la singola lasciamo o' l'ultimo si o' l'ultimo si l'ultimo Vai Si parte Si va a 10 Dai subito Livio ha detto esce subito Oh davvero Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo No non è vero No non è vero Va bene Va bene Livio va bene 1 2 Allora lo devi perdere Antazzardare a vingerlo 3 Magari 4 Io non ho parole veramente Federica io e te non si pulla Sto chiamo tutto è finito Vai finita la live Vada a vedere la ginnastica Iniziamo ora 5 6 7 Io spero di vincerlo 8 E ci credo No nessuno spera di perderlo Ok 8 No vabbè No vabbè No vabbè Ragazzi È colpa mia Ho detto 5 di fa Ho detto È venuto a perdere Il suo ennesimo 50 Non ne ha mai vinto uno Ma io devo stare Tritta Ma guardate Siavi ragazzi Potete offendere Offendete Offendete Che sono America 72 escono 71 Ecco la Ecco Top Risparmiato 2 multi Per Camelia Non c'è 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 Potevi anche non prenderti l'arma Visto che lei non la volevi nemmeno Vediamo Dai Meno male Meno male Meno male Meno male Preghiamo 61 62 63 64 Ora vomito E dopo C'è Dopo la per me Però Sto vomitando 65 Variation 66 67 69 No eh 69 Ok No 70 L'ultima L'ultima 70 Oh Gesù Dai No vabbè Che Che vita di sofferenza La nostra In questo gioco Ora Tiro una multi La trovo Oh che fatica La vita Proprio Faticosa Oh Ci abbiamo fatto Tutto 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 Ragazzi Tutto Ora però La troviamo nella prima multi Nel banner armi E ribilanciamo Tutta la sfiga Ma lo spero Dov'è sta Eccola Staccia e saccia Eccola Dai doppio Che bella Però No bellissimo Tutto Non c'è una cosa brutta In questa animazione Poi lei che sta messa così Ti guarda Non c'è una cosa brutta Non c'è una cosa brutta Non c'è una cosa brutta